Temptation Island Temptation Island, Valeria Marini si chiude in bagno con Ivan e fa una furbata Temptation Island ci sta regalando una puntata dietro laltra fatta di colpi di scena e momenti esilaranti. Protagonista ancora una volta Valeria Marini. E Valeria Marini la protagonista assoluta di questedizione di Temptation Island. La stellare Marini, secondo le anticipazioni, si è chiusa nuovamente in bagno con il bellissimo tentatore spagnolo, Ivan Gondalets, che secondo qualcuno potrebbe avere un flirt con un truccatore. Valeria Marini in bagno con un tentatore. Ma tra Ivan, il corteggiatore spagnolo, e Valeria Marini cosè successo? E questa la domanda che si fanno tanti telespettatori. La Valeriona nazionale si è chiusa per benue volte in bagno con il bel ragazzo spagnolo. Ma sarà andata oltre? Avrà tradito il suo compagno? Quello che è certo è che Valeria conosce bene le dinamiche dei reality ed è per questo che ha fatto una bella furbata che è diventata immediatamente virale. Temptation, Valeria in bagno con Ivan. In bagno con Valeria, Ivan avrà tenuto a freno le mani e la lingua. Secondo alcuni gossip tra i due c'è stato qualcuno. Ad insospettire di più anche la furbata della bella Marini. Quenne Valeria ha anche fatto una furbata, per non far sentire nessun rumore, ha aperto l'acqua del rubinetto. Forse la prossima volta la redazione dovrà mettere più telecamere magari anche in bagno, armadio e quantaltro. Nessun posto deve essere sicuro. Grazie a tutti.